Eh sì, non ci fermiamo, vai. Siamo sempre qua a Legnano, a Maxi Zodi Legnano, e siamo alla seconda caccia al tesoro. E adesso con Mauro. Piegherà un po'. Eccolo qua, Mauro. Ciao. Eccoci ancora qua. Ed ecco, come si chiama? Ciro. 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 Oh, Ciro. Andiamo? Dai, forza. Vediamo un po'. Ciro. Pappa buona, pappa buona, pappa buona, pappa buona. Vai vai, Ciro, Ciro. Dov'è? C'è qualcosa qua? Senti qualcosa? Guarda qua. Dov'è che è? Senti? Senti un po'? E lì, è lì. Sta sentendo? Sì, sì, è qua. Vediamo se... Questa no, questa no. Guarda, Ciro, guarda, guarda. Guarda, guarda, Ciro. Ah, cosa c'è? Guarda. Ciro è molto... Ciro, Ciro sta mettendo la testa dentro. Bravo, Ciro. Bravo, Ciro. Ciro sta vengendo... No, no, no. Tentilo in mano. Così, quasi. Andiamo, andiamo, andiamo. No, Ciro, non fa parte quello. C'è anche Ciro mangerebbe forse tu. Sì. Allora, senti, senti l'odore. Che odore c'è? Ciro. Dov'è, dov'è? Eccolo, bravo. Nascosto nel cibo, quindi proprio difficilissimo. Cosa non dovremmo fare, ma va bene così. Ah, è vero. Ok. Bravo, Ciro. Guarda, guarda. Oh, prego. Guarda, il ciretto qua. Ciao, Ciro. Ottimo. Perfetto. Bello giocare la caccia tesoro, eh, Ciro? Sì. Mica male. Ok. Grazie allora a tutti quanti. Guarda. È ancora lì che cerca. Sì, sì. Ancora le scatolette, guarda. No, no, adesso, guarda, ti mangio la scatoletta. Guarda che, no, non c'è più niente, è finito. Senti come sgurofa. Mauro, come al solito, grazie di tutto. Grazie a voi. Grazie a voi. Ciao, Ciro, ciao, Mauro, grazie. Ciao, ciao, ciao.